Namaskaram, Sadhguru. Voglio fare l'esperienza di questa vita dentro di me al massimo. Quindi, oltre ai miei kriya, che faccio ogni giorno senza eccezione, cos'altro dovrei fare per portare questa esperienza al massimo? Voglio fare l'esperienza di quella magia della vita di cui parli. Grazie. Devi vivere. Quindi, cosa significa vivere? Non vivere fuori, vivere dentro. Le persone pensano, se vogliono vivere, vogliono vivere fuori. Festa ogni giorno. La filosofia del far festa tutti i giorni funziona per un po', sai? Se hai 18 anni, non hai 18 anni, ok? Non sto cercando di... Se hai 18 anni... Allora potresti durare cinque giorni. Il sesto giorno sarai a terra. Se ne hai 30, durerai tre giorni. Il quarto giorno sarai a terra. Se ne hai 50, due giorni sarai a terra. Se ne hai 60, andrai a terra durante la festa. Quindi, niente, non ho nulla contro la festa. Non è molto pratico, tutto qui. E diventerà l'orrore più monotono dopo un po' di tempo. Festa ogni giorno. Quindi, cosa dovrei fare? Il Kriya è solo un impulso. Non è un fine in se stesso. Il Kriya cerca di accrescere le tue energie. Quotidianamente, ogni giorno senza eccezione... L'ho sentito e me lo ricorderò, eh? Ok. Ora, il Kriya può funzionare in dimensioni diverse. Quando lo insegniamo nel programma, lo insegneremo in modo tale che è sicuro per un principiante. C'è sempre una questione di sicurezza. Se farai salire qualcuno su questo albero, se è un bambino di cinque anni, lo farai salire così tanto. Se è un bambino di dieci anni, così tanto. Sai, c'è una questione di sicurezza. Quindi, viene insegnato in un certo modo. Quando esaurisci quella dimensione, il che richiederà un certo periodo di tempo alle persone, dipende, alcune persone le esauriscono rapidamente, e alcune persone le esauriscono nel corso di una vita, la possibilità che offre solo in quella dimensione. Ed è anche un meccanismo integrato che, se tocchi tutta la profondità e la dimensione del Kriya in un certo periodo di tempo e rimani lì stabilmente, aprirà una nuova possibilità da sé. è progettato così. Il software è progettato così, che passo dopo passo ti manterrà in un certo posto per un certo tempo. Quando sente che la tua fisiologia e psicologia sono abbastanza stabili, ti porterà a livello successivo di intensità. se non hai la volontà di aspettare che questo processo si sviluppi da solo, naturalmente, allora direi una volta l'anno o due volte l'anno o tutto l'anno è una tua scelta puoi farne una tua scelta. Fisti un tempo per la sadhana sadhana a tempo pieno forse una settimana forse 15 giorni ciò che ti puoi permetterne la tua vita. Quindi stai qui una settimana sadhana 15 giorni sadhana quello che è adatto e si è adatta alla tua vita. fai quello per te direi due volte l'anno sadhana a tempo pieno alcuni giorni all'anno sono solo per la sadhana per nient'altro non sadhana mattutina sadhana serale semplicemente 24 ore di sadhana per un breve lasso di te. Se investi questo tipo di tempo puoi compiere quello sviluppo molto, molto più velocemente invece che permettergli di maturare al suo ritmo naturale puoi spingerlo. Dovresti fare questo. E naturalmente essere in uno stato di devozione è molto propizio. Puoi ogni giorno sederti così e farlo come un esercizio. non fare dei giuramenti come fino all'ultimo giorno della mia vita lo farò. Fallo oggi. Sei dedicato solo per un giorno e guarda questo giorno come fosse il tuo ultimo giorno. possibile? Possibile? Possibile o no? Possibile. Non te lo auguriamo ma possibile. Quindi questo potrebbe essere il tuo ultimo giorno. Fai il tuo kriya come se questo potesse essere il tuo ultimo giorno. ti svilupperai molto più velocemente perché ora stai pensando per i prossimi 82 anni lo farò. Quindi il meccanismo interiore pensa ok a tanto tempo. Fallo come se oggi fosse l'ultimo giorno. allora si affretterà un po'. Oppure se troviamo che sei abbastanza stabile abbastanza adatto interverremo e lo regoleremo in un modo completamente diverso. Ci sono molte cose da fare ma la cosa più importante è di fare il kriya con un certo senso di devozione e offerta piuttosto che come un esercizio. Se lo fai come un esercizio terrai benefici di salute. ma se vuoi esplodere allora devi rimuovere le tue strutture interne. Allora esploderà molto facilmente.